Ancora sangue sull'asfalto a Montemiletto, lungo la statale Appia, accontrata San Giovanni. L'altra sera Paolo Cecere, 20 anni, imprenditore di Prata Principato Ultra, era andato alla festa del Sacro Cuore a Montemiletto. Aveva trascorso la serata insieme a Gaia e ad un'amica. Poi, prima di far rientro, a bordo della sua potente minicooper, viaggiava verso casa quando improvvisamente c'è stato l'incidente. Lo schianto è avvenuto contro una grande punto che arrivava nella direzione opposta di marcia. L'impatto con la vettura, guidata da un giovane di Tufo, è stata irreparabile. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti e intanto il bilancio è pesantissimo, con un morto e quattro feriti. Dopo la collisione frontale con la Fiat Grande Punto, con a bordo la coppia e lo schianto contro il guardrail, è arrivata la morte. Nell'impatto che è stato la vita a Paolo Cecere, sono rimaste ferite gravemente altre quattro persone. La fidanzata di Paolo, la sua amica che viaggiavano a bordo della minicooper, ma anche la coppia a bordo della Grande Punto. Sono in coma farmacologico due ragazze. Una delle due ha subito anche l'asportazione della milza, mentre l'altra ha riportato un ematoma cerebrale. La coppia invece che viaggiava a bordo della Grande Punto è stata trasferita all'Andolfi di Solofra. Anche in questo caso i medici si riservano la prognosi. Le condizioni di Paolo invece, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, sono apparse subito gravissime. Il ventenne di Prata, ispirato poche ore dopo, all'ospedale Moscati. Troppo gravi i traumi e le lesioni agli organi interni. Il corpo di Paolo è stato sottoposto sotto sequestro dalla magistratura del capoluogo irpino, che ha aperto un fascicolo di inchiesta sul caso.